a parte gli scherzi in questo gioco ci sono gli animali oh mio dio i gabbiani cioè le rondine cioè non ci sarà qualche animale che vola in cielo no ci sono le nuvole però non sono animali come non sono animali tua madre no beh mia madre fa parte dei viventi ha le cellule animali però non è un animale basta non ce la faccio più non so più quello che sto dicendo dopo tanti tentativi sto sperando la madre fa parte delle cellule animali no fa parte del regno dei dei viventi che non c'entra niente comunque con gli animali però come si deve per sé normali tua madre fa parte del regno dei viventi questa cosa poi c'è il regno no c'è il regno animale il regno vegetale il regno delle non mi ricordo ma che cazzo ne dicendo è in biologia si studia in biologia ma che cosa oh non mi parla di scuola a me parlami di tutto quello che vuoi ok no adesso perché sto impazzendo proprio sto sclerando al massimo qualcuno mi devo nascondere io sono con un grosso gatto sempre allegro e soddisfatto con la testa rotondissima na 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 Dora Doraemon poi c'è un altro che in divertivo sempre a cantare da piccolo si chiama Kuro Chan Kuro? Kuro Chan era un gatto era bello un gatto robotico anche io avevo un gatto si chiamava Niki poi è scappato non mi ha fatto stoppare no no la Pasha ha chiamato no guarda si chiama la nucleare buttiglio giù prendi la classica la T4 come sto favore se io non ho fatto quella che hai finito dove chiamavo eccolo si adesso non mi uccide però vado a suicidarmi per il bene della Pasha oh my god oh my god oh my god ciao a tutti da Reflex Shock e iReflex Video ciao a tutti